Si ferma la protesta degli operai della GESIP a Palermo, un gruppo di lavoratori della società partecipata del comune dopo aver bloccato piazza Vigliena ai quattro canti ha bloccato piazza Giulio Cesare nei pressi della stazione centrale. Sono circa 1.805 i dipendenti della società senza paga, lavoro e retribuzione dal primo di settembre. Chiedono risposte sul loro futuro. Gli operai si muovono a piccoli gruppi improvvisando blocchi stradali a singhiozzo. Alcuni lavoratori da due giorni hanno piazzato delle tenne davanti al Palazzo delle Aquile, sede del municipio dove dormono per protesta, dove in corso anche questa mattina un sit-in. Una decina invece ha anche iniziato uno sciopero della fame. In queste ore è accusato un malore Orazio Lorello, uno degli operai sciopero della fame. Soccorso dai medici del 118 ha però rifiutato il trasferimento in ospedale.